Mmm Demis è veramente bravo Cioè la con Grasp mette se hai le pallette la usi con Grasp Se no no Ma appena ne spawno i minion ragazzi levo la chat Che qua sto game tocca focussarsi un po' perchè abbiamo Allora questo è veramente un game bello Perchè abbiamo Un skill matchup top E allo stesso tempo abbiamo Uno skill matchup jungle nel senso che Saranno jungler che secondo me potrebbero E mid è uguale holy shit questo game è veramente bello Perchè il jungle potrebbero giocare solo top mid side Secondo me Top mid Early game e lasciare le bot farmare E la nostra bot in teoria Lei ha harass e lei ha sustain Questa è veramente un bel game Questo si presta a essere veramente un bel game Vediamo cosa riusciamo a fare Ragazzi la voce la chat ci vediamo dopo Veramente un bel game questo Gioveremo safe sicuramente Hanno camilla che potrebbe fare molti più Don't die Le mao Le mao Grazie bel plan Bruh Giocheremo safe in le game Saro direi mondo Grazie tante Grazie per il sub E benvenuto nelle gagne di cane Benvenuto nelle gagne di cane 13 mesi o 14 Non so se mi ricordo bene Ho buttato a caso Sensazione più che altro Allora Inizio la top side Non è inizio la top side Non faremo la Q qua Perché lui la lei è sbloccata La faremo solo nel caso in cui Vogliamo fermare il CS Andiamo dietro Sblocchiamo un'altra volta la E Ma cosa Qui andremo di normal attack Su Jax Provo per evitare Che lui ci facciano un'attacca dietro E quando non ha lei Andiamo più gridi Oh easy È ovvio che il Vidal Si spawne là Quando lo prendo dietro È ovvio Jarvan e bot E camilla e bot side Cioè Jarvan e Scusate Top e camilla e bot side L'hanno pingata Merda Non ho preso il Vidal Non c'ho neanche Ho sbagliato Non c'ho neanche il CD della Q I TP E adesso non ti fa più Cioè adesso sì È buono in realtà Perché lui perde una maria di farm adesso Jax Se avessi giocato meglio L'avrei killato probabilmente Jarvan Non gli è pullata la wave Se no Beh è ottimo Stasso che ha fatto Jarvan per me Ma abbiamo giocato Bene in generale Abbiamo giocato Molto male Perché avrei potuto giocarla Molto meglio Aspettando magari un attimo Il condono della Q Jarvan ha perso troppo tempo Per prendere nulla Va bene Nice Sempre a livello 2 Ha perso un casino di tempo Sto di PD Jax È brutto brutto C'è tutta la wave persa Noi rimaniamo a farmare Builderemo Tiamat Come sa La Tiamat Sapete è molto brutta La virgoletta Abitare con Fiora Cioè è buona Perché vi serve Ma allo stesso tempo Vi levate Cioè se lui buildate Reforce primo item E noi buildiamo Tiamat Ci va avanti Però allo stesso tempo Camille Avremo così tanti CS che non dovrebbe essere Un problema Il gang di Camille Questo è Il riassunto Appena ti fa Quindi sto danno per me È oro Ho colato Camille mid Forse riesco A prendere pure Un'altra wave Che sarebbe veramente buona Sì ci riesco Ci riesco Ci riesco Io adesso Non potrò farmare Sta wave Se vieni Gli faccio un po' di danno Va bene Mi ricordo che noi abbiamo Il tp apple No Quindi per me Fella quella w Non mi dà molta pressione In sto momento Fella la w A me Quanto la può dar lui Mette un mostro Regaliamo È importante Che apriamo Se vogliamo andare Di matto o meno Vediamo se sta maxando Lei no Sta maxando la w Ovviamente Fage Fage Dai Oh Avrei Tato volentieri Bot Se ci fosse stata Una ward Un po' più deep Ovviamente La build Sarà a sto punto Ninja Dabi Appena possiamo Va bene Donna wave Messa di nuovo Bene per noi Facciamo quella Un po' di CS Giochiamo comunque safe Perché non abbiamo La w Up E lui ha IQ Quindi Dobbiamo stare Un po' attenti C'è Jarvan Topside Però Comunque Camille Sta facendo pressure In un'altra parte Della mappa Adesso sarebbe Caglindo da noi Fare pressure Per Jarvan Così io posso Il là rosso C'è Camille qua Camille topside Jarvan regala Siamo messi Veramente Veramente Bene Ragazzi Da cui Vi ho messo Benissimo 26 in più Rispetto a Jax Bravi bot Vedete C'è questo game Nel senso La nostra bot Sta giocando Molto bene Il nostro jungle Item Il nostro mid item Però noi stiamo Dando un cazzo A Jax Che è allucinante Ragazzi Quanto quanto Farmo dobbiamo fare Ancora E a 20 Farmo sotto Jax E tutto da solo Poi per carità Jarvan gli ha fatto Per da quel tempo Ma se non sarebbero Stati 26 Sarebbero stati 10 Comunque la linea Abbiamo giocato Veramente Veramente bene Ottimo setup Di wave Stiamo facendo Give up Molta farmo A lui Ok Qua voglio Pushare Non voglio Far arrivare Troppo A cuore Sotto torre Trollata Pure flashato Mi rifrizziamo La wave Non è bad Lui è anche Per flash up Ok Certo Lo cercano di prendere Una kill Quando in realtà Ovviamente Non ce n'è bisogno Per me Però Ci sto messo Troppo bene Non mi importa Rischiare qua Per prendere una kill Però erano tutti Bot side I loro teammates Perché camilla ha fatto Io sono andato subito Bot side In teoria Non dovrebbe avere Relativato ancora Quindi Avrebbe perso Troppo tempo A fare grax Ma avrezzi Forse no Però Avrebbe già finito Io Puoi regalare Con il ninja tab Voglio regalare Questa è qui Col cannone Quindi Frizziamo E regaleremo Più là Dica Lassatemi il sub E benvenuto Alle gagne di cane 27 mesi E' still going Si punta I 30 ormai Minchia Addirittura mate Andrea Bush Quella c***o L'avevo fatta Per prendere il bignone Ovviamente Non per attaccare Jax Regaliamo Grazie Andreri Benvenuto Alle gagne di cane Bro 27 mesi Wow Lui potrebbe Frizzare sta wave Ma noi dobbiamo Per forza regalare Bravissimi Ho chiesto una cosa Team di The Game Guarda che è successo C'è Allucinante comunque Porca miseria Allucinante Che lancia a quel ragazzo Buono Non ce lo facciamo Stilla mi raccomando Oh Dai di già Mi prende l'assist Geniale Calma io Non ci bisogna fare nient'altro Abbiamo una marea di mobilità Oh What C'ha la ulti Aspettiamo che finisce la ulti Grazie Piri Benvenuto alle gagne Mate Non so quanti mesi sono esattamente Nice Non c'è dubbi Phage mate C'è Simpli Death E non altri P Jax Abbiamo fatto anche il nostro Per fargli open Apri dai Camilla comunque ha fatto Lei sul muro Disgustosa Forse posso prendere un altro Poi regaliamo Non credo che Regaliamo Rispettiamo anche se Jax è tiltato Quindi Potevamo anche non rispettare Però Rispetteremo Ah ma non c'è l'uptime Io l'ho avviato ma non c'è Me ne so accorto adesso Ah no l'ho proprio avviato Sono ritardato Ajax FG Non l'ho proprio avviato C'è l'ho proprio avviato e guardiamo qua sia mainami a decidere di fare una cazzata prendiamo le refable prendiamo l'item della della stinger attac speed della triforce jinxia ma questi sono del taglias fuck arrivo se io mi piace come gioca safe tranquillo noi stiamo giocando molto bene questo abbiamo perso un po' di farm la nostra volta stiamo giocando molto molto bene anche buono stanno gestendo l'annami occhio occhio continuiamo a fare pressure cioè l'herald se lo vogliamo prendere e vediamo se possiamo prendere un'altra plate da me non scadono tra poco forse ce lo facciamo l'ultimo quattro secondi one plate oh shit prendiamo anche la torre ovviamente andata androio bot c'è l'inferno in realtà quindi non mi dispiacerebbe rimanere top per lasciare la bot bot però we go for that andiamo di blood anzi vedete vi dico dead dance faremo ma la diamante non la builderemo più anche a stare bot non mi dispiace comunque ho il tp down quindi mi va bene stare in questo momento qua appunto per il fatto che io non ho il tp ma come cazzo si vedono i sapo non sono la seta comunque oddio mi scliccato vado mid scampizzati non so che sarebbe successo una cosa del genere da come saranno posizionati i mid inmates avevo già capito che sarebbe successo anton grazie a te dell'host bro assaggia ma che sta a fare grazie all'host mi fanno uno shot out anton per favore benvenuti a tutti ragazzi spero abbia avuto una buona streaming mi scliccato sono morto è un like my bad mi prendono pure il drago porca l'ho trollato boh Yasuo è fiddato non c'è non c'è Sivir però oddio non è il drago a meno che il karma non fa il god e caricala un po' prima muore pure di Yasuo ahiaiaia il comeback il comeback il comeback jiggs non c'è il flash faccio la tendenza faccio la tendenza ragazzi perché mi piace avere cooldown in sto momento e riduzione di danni questo è il punto principale e anche perché non ho fatto erano statera se ci sono fatto erano statera o ti danni chitra o semplicemente gli mate se ne andate di blood però visto che sto facendo un secondo item e basta e non ho intermezzi di item appunto il secondo item andrò di questa stupenda di D non si vede nessuno nella mappa farò un'altra E e poi regalerò c'è un dropback anzi prendiamo l'autore ok forse no andiamo back se arriva jiggs e che cosa qua andiamo a vedere il Nash jacks moby dai che stavano facendo open stavano di coprare talon qua però non c'è niente né ulti baron 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 oh camina è morta appena rinata jacks bot più tempo comunque non dico già si sarebbe già finito vabbè 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 cioè vedete sto quanto sono lenti nel capire come fa le cose cioè avremmo già finito il baron abbiamo rischiato che c'è c'è l'astra andiamo a ristera e andiamo a bot morto morto ignite non c'ho il tp up però andremo a pushare bot tanti volte jacks qua c'è il loro blu tra poco che è molto interessante mi è demorto non lo avevo in push oh my bad io ci sono se potremmo andare a farlo mi piacerebbe prenderlo addirittura a sto blu molto importante per me sto blu jasuo è morto e beh si perché sta a fa invece di push a mid un'alli ha stato slain un'enemio ha stato slain Il suo turret è stato distruttato Il suo slaino è stato distruttato Il suo team ha distruttato il turret Il suo turret è stato distruttato Il suo turret è stato distruttato Sì! Dove mi prende questo cazzo di... ...inhibitor? ...inhibitor? Go, go! E più è un waste? Vieni qua! Oh goddich ma che cazzo stanna fa? ... 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 quando ero obbligati a fare il nusher sennò sapete che cazzo stavamo a fare sto game è molto pagnottella e boh lasciamo piondre è molto pagnottella lo dovrei fare sono te è molto pagnottella sembrava easy invece una massa proprio 19 per 19 vincolo 19 almeno ma come cazzo ha fatto a fare top damage